Salonico, dopo Atene, è la città più popolosa della Grecia. È un centro dinamico, ricco di negozi, ristoranti, bar, nei quali i tessalonicesi animano una vivace vita notturna. Grazie a tutti. 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 Salonico, o se si preferisce tessalonica, conserva le vestigia delle varie dominazioni. Troviamo le tracce legate alla dominazione romana, altre naturalmente legate alla dominazione turca, ma le più importanti sono legate all'interno bizantino. Il labirintico è il labirintico e animato mercato modiano nel centro di Salonico, trabocca delle più svariate mercanzie. ortaggi, olive, ortaggi, olive, spezie, frutta secca, formaggi, pesce, carne, con i rispettivi venditori pronti a richiamare i potenziali acquirenti, declamando ad alta voce, a mo' di cantilena le qualità delle merce. Grazie a tutti. 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 La Rotonda Galerio doveva essere in origine il mausoleo dell'imperatore. i bizantini la trasformarono in una chiesa e successivamente con la dominazione turca divenne una moschea, come testimoniato dal minareto costruito. Grazie a tutti. 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 scorrendo. Una sezione è dedicata alle icone bizantine. I tratti somatici dei personaggi sacri rappresentati sono sorprendentemente realistici. I tratti somatici dei personaggi i santini furono fatte rigide dall'imperatore Teodossio e durante i secoli furono ricostruite e rimforzate più volte. I tratti somatici dei personaggi e che ghiac, pa' la ghiac, pa' mi lisa me. An iroita ne tali sbogni sa me An iroita ne tali sbogni sa me Sto gala ta va fio krasi Sto pèra va me fissu Che me sa toglie di cule Coppe la paga piso Che me sa toglie di cule Coppe la paga piso Il quartiere Castrà, chiamato anche Anopoli, è la parte più alta della città. Era l'antico quartiere ottomano e da qui si gode un superbo panorama sul golf. Termaico Iroita 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti